ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video dunque la juventus primavera chiude la stagione battendo 4 a 0 il napoli a vinovo una partita che non ha praticamente mai avuto storia ha aperto le danze fredixen con un bel diagonale sinistro ha trovato il raddoppio con un colpo di testa di macun la juventus e già sempre al primo tempo fagioli aveva messo le cose in chiaro con il gol del 3 a 0 sfruttando un errore della difesa del napoli e nel finale alla fine marcovic su un errore abbastanza netto del portiere ha firmato la quarta realizzazione una juventus che domina il napoli una partita che non è stata una partita nel senso che non c'è mai stato equilibrio la juventus ha dominato il napoli ha preso una traversa sullo 0 a 0 ma è stato l'unico squillo di una partita dove oggettivamente la juventus è stata superiore nettamente alla squadra partenopea juve che purtroppo non si qualifica i playoff ma questo già si sapeva da un paio di settimane figlio di una stagione altalenante mancata una continuità abbastanza evidente e purtroppo molti hanno sopravvalutato l'idea dell'under 23 a livello anche primavera hanno sottovalutato il fatto che avrebbe potuto portare danni per modo di dire danni ma danni ai risultati della primavera perché sicuramente l'under 23 è stata molto positiva soprattutto perché ha permesso a molti giocatori della primavera di esordire però appunto facendo esordire i ragazzi della primavera la primavera si è trovata spesso con pochi ragazzi con loro insomma quindi mi viene in mente nicolussi caviglia che al di là di adesso che è un periodo che sempre con la prima squadra però ha giocato tante partite con l'under 23 e spesso gli ha impedito di giocare con la primavera e la juve ha pagato un po questa cosa si sarà da trovare l'equilibrio ma nei prossimi anni sicuramente le cose si aggiusteranno comunque tutto sommato a me non mi sembra una brutta stagione quello della primavera peccato appunto per i risultati ma soprattutto in fase di crescita che secondo me a livello giovanile è la cosa più importante la primavera ha fatto una grande stagione proprio perché ha permesso a tanti giocatori di esordire nei professionisti grazie all'under 23 e devo dire i risultati alla fine non sono stati positivi per la squadra del 19 perché non ha partecipato al viareggio però è stata eliminata in youth league nonostante sia il miglior risultato insieme a quello ha eguagliato il miglior risultato della storia della juve in youth league non è riuscita a entrare mai in partita con il dinamo quindi è uscita malamente in coppa italia siamo usciti a firenze secondo me facendo anche una grande partita ma la ferentina era superiore e in campionato abbiamo mancato per poca continuità il terreno dei playoff e c'è da dire comunque tanti infortuni alcuni anche sfortunati tipo fagioli che appena rientrato e ha trovato il gol ecco avrei voluto magari con fagioli in campo magari qualche possibilità in più per i playoff ce l'avremmo avuta comunque ragazzi questo il calcio è così e non c'è da piangersi addosso c'è già da lavorare per la prossima stagione quindi chiudo qua questo video e la juventus primavera ricordo battuta napoli 4 a 0 e chiude il campionato e al settimo posto bene ragazzi vi saluto ed appuntamento con prossimo video e fino al fine forza juventus